Ruba palla dal lago, in contropiede, dal lago per Franco Amato, il tiro di Amato e il gol! Gol ancora di Franco Amato, 3 a 1! Il gol di Franco Amato, ed è Amato, effettua il tiro, Cairo, ed è la palla in gol, palla in gol, rete convalidata, rete convalidata dal signor Belghigna, ancora Franco Amato! Ma Amato, ed è gol, gol per il Novara, gol per il Novara in rete Amato, in contropiede, 2 volte, ma 3, 4, 5 volte molto meglio! Ancora in gol Amato, ancora in gol Carlo Amato, ancora Amato, Cairo, ed è gol, ed è gol del Novara, Novara che va in gol in maniera stupenda, bravissimo il Novara, a questo punto è giusto dire che il Novara sta vincendo alla grande qui al Tanzi, e recupera comunque Cairo, ed è palla ancora per il Novara, Amato, è gol di Amato, in gol ancora il Novara con Amato, in gol il Novara con il primo e 40 al termine qui al centro giovanile, Cairo, Amato, Amato, ancora Amato, ed è gol di Amato, che riesce ancora a bucare Stella, in gol il numero 11 Amato, quindi punteggio ancora variato, Bassano, un sintesi Vercelli in ripresa, che ha raggiunto il Bassano, vincendo a Castiglione, la stagione regolare a parità di punti con il ritrovato Vercelli, attacca intanto Amato, Amato, il gol, è il gol del pareggio per il Novara, 1 a 1, dopo 6 minuti, in poco più di 4 minuti, l'ultimo, quello vincente, quello dello Scudetto, firmato da Francesco Amato, 20 anni, una grande partita fra due gondi, un ingaggio vinto dal Novara, parte con Pallago, il certo palla da Colamaria, Pallago per Amato, al volo Amato, accorce le distanze, giro, ammolzato dalla stecca, nel recupero di Colamaria, riparte Cairo, c'è Cairo in pista, e il gol, un altro gol di Amato, che ha raccolto il padrone per il Novara, può essere battuto, il passione della croce è Amato, può essere battuto in movimento direttamente, Amato contro Cupisti, siamo sul 9 a 5 per il roller, un po' di confusione, qualche stecca che vola, vediamo, tra Dal Lago e Gilardelli, se si batte questo tiro diretto di punizione, Amato contro Cupisti, parte in movimento, Amato, Amato, ha di gol, accorce le distanze, del Novara, allora, tenta la conclusione Amato, Cairo, bisogna stare attenti, infatti c'è subito il gol, c'è subito il gol di Amato, se ti ha ripreso il gioco, con la panina sulla stecca, di Gilardelli, li ruba palla Amato, li ruba palla Amato, lo tenta di Tradello, dietro di gol, il gol con il quale il Novara si porta in vantaggio, Per me come la federazione è uguale in tutte le sue specialità, quindi abbiamo la forza. Il primo gol di Amato, ecco, questo è il gol dell'1 a 0 che i nostri telespettatori non hanno visto, speriamo di rivedere anche il secondo, questo è ripreso dal basso, vi ricordo, mi scusi Presidente, che la televisione della Galizia con la coproduzione della televisione spagnola come dicevo io, noi abbiamo avuto il grosso pregio di mettere gli uomini giusti al posto giusto, quindi noi abbiamo uno che è guidato dal fammissario tecnico Mazzari. Abbiamo avuto vicino al terzo gol, c'è il terzo gol, terzo gol, noi vediamo un po' che cosa dice. Ilani, uno per l'Italia, contro la Germania federale dell'ultima giornata, il capitato del mondo di Occhierotelli sulla pista di La Corugna in Spagna. Ilani, Amato, per l'Ago Amato, Amato, gol, grande gol, grande, un gol da fuoriclasse, Francesco Amato, del Novara. Comunia. Lui papà l'Ago Amato, 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 gol! 4-1 E Mazzari di solito dice che Amato di fronte al portiere, non sbaglia. Ha sbagliato di sera controllo Spagna. Una volta, Mazzari di fronte, Weldester. Questa sera, ti è rappresentata la stessa occasione. E' entrato in pista Bernaldini. Amato, Alicino, un altro gol. Il suo terzo successo personale. Sesto per l'Italia. 6-1, Amato all'undicesimo. Enrico e Massimo, ovviamente, sono i fratelli Mariotti. Marcella ha trattenuto regolamento, si è avuto la punizione a beneficio di Amato, che segna il suo quarto gol, settimo per l'Italia. 17esimo minuto, ancora Amato, 4 gol di Amato. 7 per l'Italia. Amato nella città. 2, Novara che si ripropone all'offensiva con Amato. Il tiro, c'è il gol, 3-4. Amato, stupenda partita. Tanto c'è un tiro diretto. Il Novara ha l'opportunità di pareggiare, anche se non gli basterebbe per arrivare alla finale. Vediamo, Amato, Amato in movimento. Amato, Amato, gol! A 1,55, fa 4-4. Malnovar. Italia in attacco. Mariotti per Amato che va in gol. Franco Amato segna al quinto minuto il primo gol per l'Italia. Rivediamo. Numero 5, Crudeli. Ecco Massimo Mariotti per Amato che è bravissimo a trafiggere il portiere cileno Espinosa. 1-0 dopo 5 minuti. Settimo minuto. Ancora Italia in attacco. Enrico Mariotti, fratello di Massimo. Passaggio per Amato. Ancora Amato ed è il 2-0. Italia-Cile 2-0, dunque dopo 7 minuti di gioco. Rivediamo. Un'immagine che ci sono proposte dalla televisione argentina. Ecco il gran gol di Amato dopo un bel dribbling. Dunque Franco Amato primo piano per... Attaccato da Bernardini. Attacca ancora con Aghero il roller. Controvede. Amato, Amato, Amato. Gol! 2-1. Il cupista questa volta è stato beffato. Trapazzato l'Electrolume Bassano per 15-4. Da segnalare i successi in trasferta del Seregno a Pordenone contro lo Zoppas per 3-2. Ordina un tiro di rigore per il Novara. Rubio non è d'accordo. Siamo al sesto minuto del secondo tempo. Dunque Amato ha la possibilità di portare ulteriormente in vantaggio il Novara. siamo sul 4-2 lo ricordo sesto minuto del secondo tempo tiro di rigore per il Novara Amato contro Sacco. Il tiro può essere battuto di rigore direttamente o in movimento 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 per Amato ed è il gol. 5-5. Vara adesso sulla stecca di Amato per Nunez. Nunez vicino al gol ed è il gol di Amato il tiro di Nunez la respinta di Sacco 3-1. Rudeli Nunez fermato Amato vicino al gol e gol Novara nuovamente in vantaggio 2-1. Non è giovanissimo Cinquini ma è uno di quei giocatori sui quali tanto Amato vicino al quarto gol e c'è quarto gol Amato. Ovviamente dall'apporto di Roberto Crudeli numero 5 che adesso adesso questo di palla numero 5 Crudeli ha scambiato con Nunez e poi vediamo Amato squadra senza altro forte quella del Novara prossimamente vedremo anche questo seregno dei miracoli tanto il Novara è ritornato in vantaggio con Amato avete visto il gol mentre Giorgio Luzzo dall'intervento di Sudantelivo è stato neutralizzato l'intervento di Parasulco in contropiede va in gol va in gol con Amato il Novara ecco Amato esultante Novara in attacco dunque siamo sul punteggio di 4-4 Amato Amato il tiro il tiro è gol avete visto Fulminio il tiro di Amato sorpreso ancora una volta compagno